Guarda prete, guarda, sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana, questo è il tuo amore per il tuo fratello in Cristo. Hai preferito vederlo ridotto così piuttosto che parlare, ma non sperare prete ipocrita di salvarti, né di salvare i tuoi complici. Farai la fine dei traditori, noi vi distruggeremo tutti, tutti, fino all'ultimo. Non hai parlato. Non hai parlato, non hai parlato, non hai parlato. E' finita, è finita. Volevate uccidere la sua anima, avete ucciso soltanto il suo corpo. Maledetti, maledetti. Sarete schiacciati nella polvere come te i verni. Maledetti. Miel Dio, che cosa ha detto? Perdono, Dio mio, perdono. Gli profondi s'esclamati atti domini e salvo ciume.